Benvenuti a tutti a questo terzo incontro dedicato al nostro barocco romano e oggi ci concentreremo un po' su quella che è la storia di una collezione importantissima, tra le più importanti che abbiamo in Italia, ricchissima e ovviamente anche interessante per la sua storia e per il suo mecenate che è ovviamente Scipione Borghese, quindi faremo un viaggio, un viaggio attraverso opere molto famose, opere meno conosciute che si trovano ancora oggi in questo luogo splendido, in questo luogo ovviamente che è una sorta di scrigno d'arte, quindi sarà un po' un tuffo nella scultura, nella pittura, tra rinascimento e barocco, quindi toccheremo un po' anche le curiosità legate alla formazione di questa collezione che nel 600 a Roma sicuramente possiamo definire una delle collezioni più famose e anche più affascinanti che c'erano in città. La dobbiamo immaginare nel 600 appena dopo essere stata realizzata questa villa, questo palazzo diciamo suburbano perché Villa Borghese ancora oggi si trova immersa nel bellissimo parco che è frequentato dai romani e la dobbiamo immaginare immersa nella natura, un luogo comunque bucolico, un po' classicheggiante anche al tempo della costruzione, al tempo di Scipione Borghese. Ora siamo vicino a Porta Pinciana, questa sorta di cittadella verrete circondata da muri con torri, effettivamente l'edificio venne costruito proprio nel 600 da Flaminio Ponzio su richiesta di questo personaggio che è un po' il protagonista poi della nostra storia di oggi che è Scipione Borghese, nipote del famoso Papa Paolo V Borghese e sarà uno dei protagonisti anche di quelle che sono le vicende culturali legate un po' anche a tutti i cerimoniali della chiesa del tempo, un personaggio molto particolare del quale scopriremo la storia e un grande mecenate logicamente, perché è a lui che dobbiamo la costruzione di questo edificio con tutto l'annesso giardino. Questa è un'immagine che ci mostra il prospetto di Villa Borghese nel 1636, vedete come era animata la villa, il parco con carrozze, con ospiti, diciamo che fu pensato già all'epoca come una sorta di museo, una sorta di museo antelitteram, quindi un grande amante dell'arte, un collezionista avido come Scipione Borghese pensò già all'epoca, siamo comunque in una fase abbastanza precoce, siamo nel 600, di creare un luogo veramente che fosse una sorta di scrigno di arte, di arte però di un certo tipo, quindi lui aveva dei gusti molto particolari. Ecco la Villa Borghese come la immagina e la vede probabilmente questo artista nel 600 sempre, quindi siamo proprio al tempo di Scipione Borghese, venne realizzata con tutta una sorta quasi di giardino all'antica, con dei giardini segreti, con il giardino dei melangoli che erano gli aranci amari, con il giardino dei fiori esotici, con statue, con ninfei, con ovviamente piccoli luoghi che dovevano rievocare un po' la Roma classica, l'antichità, logicamente era una sorta di biglietto da visita questa villa, perché Scipione Borghese è stato un personaggio molto importante, ha avuto molti incarichi nella Roma del tempo e non solo a Roma e di conseguenza essendo il nipote del Papa doveva in qualche modo avere un luogo privilegiato per la sua famiglia. Loro i borghese venivano da Siena e si erano stabiliti a Roma, logicamente dovevano in qualche modo affermare la propria famiglia, la propria anche no potenza in qualche modo sociale e culturale, avevano già un palazzo, il palazzo di Borgo vicino al Tevere, ancora oggi c'è a Roma e poi decidono di farsi costruire questa questa sorta di villa che ricordava, aveva come modello sicuramente dei precedenti, no? Avete in mente molto probabilmente Villa Medici, quella che vedete in alto e la Farnesina, sempre sul Lungotevere, quindi sicuramente Flaminio Ponzio e poi l'architetto che terminerà la villa borghese prende come riferimento due edifici che già esistevano a Roma, molto belli, molto ovviamente ancora un po' no? Rinascimentali nello stile, nella struttura con questa sorta di no? Ampie finestre, queste facciate un po' classicheggianti no? Con addirittura bastorilievi statue, quindi un gusto che in realtà viene ripreso da edifici preesistenti, una villa che era un po' a metà tra una villa urbana e una villa di campagna perché si trovava no? Villa borghese avete visto proprio al no? Al limitare no? Del della Porta Pinciana, quindi appena fuori in qualche modo le mura antiche di Roma. eccola villa borghese come la vediamo oggi nella sua nel suo prospetto principale no? Quindi la la facciata frontale quella che poi no? Si si vede arrivando dai vari ingressi e il giardino doveva essere qualcosa di meraviglioso. Questa è un'immagine un po' più tarda perché poi noi sappiamo che villa borghese cambiò logicamente un po' fattezze soprattutto nell'interno lo vedremo ma anche nella parte dei giardini quando nel 1800 tutto passò in mano ad un personaggio legato sempre alla famiglia borghese, Marco Antonio Borghese appunto che sarà poi il famoso sposo di Paolina no? Paolina buona parte eh che poi sarà rappresentata da Canova e della quale parleremo e quindi nell'ottocento villa borghese e l'annesso parco era diventato un luogo molto frequentato anche dai romani addirittura venne costruita vennero costruiti piccoli tempietti il famoso tempietto che c'è ancora oggi con il lago no? Nella zona appunto il tempietto di Esculapio nella zona di villa borghese eh vennero organizzati vennero organizzate feste eh si potevano eh acquistare bevande particolari il la cioccolata calda eh tutto ciò che riguardava un po' no? Un momento di ozio di svago quindi ecco nell'ottocento si trasformano i giardini si trasforma la villa e diventa una sorta di vero e proprio luogo pubblico apriva il giovedì quindi era una sorta di museo fruibile proprio no? A chi eh volesse scoprire le meraviglie che custodiva no? La la palazzina borghese questo è una una faccia una vista molto bella da dall'alto su eh uno dei eh una delle diciamo delle delle appendici eh botaniche che si trovano ai lati della della villa borghese c'è una zona dedicata ai moni quindi ai melangoli e un'altra zona dedicata ai fiori esotici quindi ecco vedete che ancora oggi in parte si mantiene questa tradizione no? Legata al periodo no? Seicentesco di comunque curare tutto l'aspetto esterno in alcune occasioni i giardini di villa borghese appunto vengono aperti al pubblico ora nel tra il sette e l'ottocento ecco che tutto il parco meraviglioso di villa borghese diventa meta anche di viaggiatori di poeti di artisti eh di pittori appunto stranieri che si immergevano in questi eh in queste piccole piazzette in questi viali con i cipressi un'atmosfera dobbiamo immaginare molto affascinante c'erano tante fontane tra l'altro ecco qui vi ho ehm appunto riportato alcuni dipinti che ci mostrano per esempio questa è la fontana dei cavalli marini eh con questi bellissimi alberi quindi un'atmosfera sicuramente che che si respira ancora oggi in parte a villa borghese e che ci richiama no sicuramente questo gusto per una natura eh no in qualche modo eh selvaggia ma allo stesso tempo eh è caratterizzata da statue da fontane da luoghi di condivisione eh questo è il famoso tempietto di Esculapio con il lago che tra l'altro oggi una delle mete no se avete attraversato villa borghese il parco una delle mete preferite anche di romani di stranieri perché è un luogo veramente incantevole no e lo dobbiamo immaginare eh proprio così come ce lo dipingono questi pittori del settecento e ora arriviamo a quello che è il nostro protagonista no prima di tuffarci in questo viaggio virtuale attraverso le opere eh della galleria borghese a chi dobbiamo no questo eh questo museo così particolare lo dobbiamo a Scipione Caffarelli Borghese era nipote vi dicevo di Papa Paolo V eh cardinale, arcivescovo, collezionista insomma la sua storia è particolarissima lui forse incarna la figura eh diciamo eh più estrema di nepotismo eh la sorella Ortenzia appunto eh la madre di Scipione era la sorella appunto vi dicevo del Papa quindi eh lei decide in qualche modo insomma di instradare anche il figlio verso una un percorso particolare sarà appoggiato dal dallo zio che diventerà Papa e che in qualche modo lo aiuterà a fare questa sorta di carriera questa vera e propria ascesa politica eh all'interno della Roma del tempo lo vediamo ritratto in questi due in queste due immagini a sinistra è un dipinto logicamente che lo caratterizza un po' anche in questo volto no un po' spregiudicato a destra c'è il famoso busto di Bernini eh già Lorenzo Bernini che sarà un altro dei nostri protagonisti di oggi lo ha rappresentato c'è una leggenda che eh riguarda questo questo busto che tra l'altro è di un naturalismo straordinario guardate sembra quasi parlare no Scipione sembra quasi invitarci al dialogo alla conversazione eh si racconta che l'opera fu in realtà ebbe un problema perché si era creata una crepa nel marmo proprio nel momento in cui andava consegnata al al cardinale e quindi Bernini secondo questa leggenda in una sola notte eh la rifece quindi la la scolpì nuovamente per poterla consegnare senza questa imperfezione e oggi alla galleria borghese le troviamo entrambe quindi abbiamo le due versioni di questo busto ora Scipione borghese aveva studiato anche a Perugia eh lo dico ovviamente perché eh in quell'occasione aveva studiato ehm all'università di Perugia e si era laureato in legge e in quell'occasione aveva scoperto la sua passione per Raffaello e e poi sarà lui a far arrivare alla borghese no vi ricordate ne abbiamo parlato la famosissima deposizione Baglioni dalla chiesa di San Francesco al Prato. Ecco entrando eh nella nostra bellissima galleria borghese che cosa vediamo? Vediamo un susseguirsi di stanze di ambienti più o meno grandi questa è una delle sale più famose con il famoso ratto di Proserpina di Bernini e questa collezione come no veniva descritta anche al tempo era una sorta di teatro dell'universo no il compendio delle meraviglie e la vaghezza dello sguardo umano e cioè è un luogo che deliziava gli occhi non a caso Scipione borghese fece costruire appunto la il palazzo e lo arricchiri tante opere d'arte eh per il piacere dei sensi proprio lui ha amava immergersi nella bellezza di queste opere che dovevano essere un po' anche mescolate cioè l'arte antica accanto all'arte moderna infatti noi troviamo dei busti delle statue di epoca greco romana accanto a quelle di Bernini abbiamo dipinti di pittori lui aveva una predilizione per Raffaello per Guidoreni per Domenichino in modo particolare amava avere dello stesso artista più opere in di fasi diverse quindi diciamo aveva un gusto collezionistico anche abbastanza particolare questi ambienti come li vedete li vediamo oggi sono frutto però eh lo già lo intuite di una di una trasformazione perché logicamente eh quello che noi vediamo è è una no una sono delle sale che hanno degli affreschi che hanno scusate eh tutta una serie di decorazioni di stucchi ehm di decorazioni un po' esotiche che eh sono frutto del gusto del dell'ottocento quindi eh questi ambienti furono pian piano modificati in base al gusto poi dei dei diciamo dei successori di ehm Scipione Borghese ecco una bellissima visuale no sulla su questa splendida sala e del Ratto di Proserpina appunto e avete questo no questa sorta di 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 soffitto con queste lesene con queste modanature no che ci mostrano proprio eh questo gusto no settecentesco tra sette e ottocento appunto così come la famosa sala eh che eh celebra un po' il trionfo di Romolo quindi una no in qualche modo una rivocazione dell'antico eh realizzata a secondo i canoni di Pietro da Cortona quindi recuperando un po' lo stile del barocco romano ma nella fine del settecento proprio eh durante la la no la permanenza in nella villa appunto di Marco Antonio Borghese quindi vedete un mix di stili che ci eh che ci mostrano un po' che la quello che è un po' l'anima della villa no che seguì un po' anche le vicende della storia della famiglia e anche i gusti e le personalità dei vari proprietari. Ora cosa succede ad una parte importante della collezione? Qui viene fuori un po' quello che è un no un un nodo un po' difficile da sciogliere. Siamo nel 1807 e ovviamente siamo nella fase delle 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 requisizioni napoleoniche. Napoleone nonostante il rapporto stretto che c'era appunto con la famiglia galleria borghese perché la sorella Paolina eh si era sposata con Marco Antonio Borghese in realtà non sentì ragioni e volle visto che era molto imponente la collezione archeologica della galleria borghese volle eh acquistarla e la fece portare ovviamente in Francia eh andò a a comporre eh quella che è oggi proprio il deposito borghese la la della la 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 collezione borghese alla all'Uvre eh guardate qua quanto materiale più di centocinquanta statue busti colonne quindi eh sicuramente la collezione borghese aveva una quantità di opere straordinarie già alla fine del 600 contava più di 800 dipinti e una delle collezioni archeologiche più famose eh che c'erano a Roma quindi ecco immaginate insomma che fu una perdita molto grande tra le opere che finirono a Louvre che cosa troviamo? Il famosissimo di Scobolo guardate che meraviglia che meraviglia quest'opera è il gladiatore che sta combattendo vedete che ha aveva probabilmente uno uno scudo in bronzo eh la posa è dinamica è un'arte ovviamente di grande raffinatezza di grande dinamismo tipica del periodo greco di Lisippo siamo in quella fase e l'artista eh non lo conosciamo in realtà ma possiamo immaginare che Bernini eh si rifece in parte a questo a questa statua poi per rappresentare il famoso David che poi vedremo eh l'opera era stata ritrovata ad Anzio ed era entrata ovviamente nella collezione borghese perché Scipione era molto avido di opere di questa qualità ma anche il famoso Ermafrodito e Dormiente un'opera ancora più celebre di quella che abbiamo visto prima l'originale è a Louvre è questo che vi ho messo qui eh alla borghese lo abbiamo visto insieme quando siamo andati ce n'è un altro che è in realtà una delle tante versioni di quest'opera perché come vi dicevo purtroppo eh l'originale è finito a Louvre durante questa questa diciamo queste questa perdita no enorme che ci fu nel 1807 e la cosa straordinaria dell'opera è che è un mix perché eh il nostro Scipione eh chiese a Bernini di realizzare il materasso quindi noi vediamo una statua di epoca eh antica perché siamo nel secondo secolo dopo Cristo quindi questo Ermafrodito no che eh ci mostra no questa figura così erotica così anche insomma no particolare eh che richiama un po' nella posizione le famose Veneri insomma eh ecco c'è una storia poi molto particolare dietro a questa figura no figlio di Ermes e Afrodite figlia di Ermes e Afrodite e il materasso però è barocco quindi vedete come Scipione amasse proprio il il mescolare gli stili no il creare un un una composizione che fosse il frutto di un'arte antica di un'arte moderna guardate poi la qualità di questo materasso cioè sembra di toccarlo sembra vero eppure è anche il cuscino è tutto fatto con il marmo quindi qualcosa di straordinariamente naturalistico ma questo era Bernini eh l'ultima opera che vi mostro partita per la Francia in quegli anni e proveniente dalla famosa collezione borghese è il vaso borghese che come potete vedere intanto le dimensioni qui non si capiscono è alto quasi due metri un metro e settanta enorme un grande cratere che probabilmente doveva decorare una delle uno dei giardini delle ville romane nella zona ehm diciamo del Quirinale quindi fu eh probabilmente richiesto da una famiglia romana nel primo secolo avanti Cristo a un a una bottega neoattica quindi di cultura greca di estrazione greca e aveva questo bellissimo fregio con eh la danza delle menadi e e dei satiri quindi una sorta ovviamente di rito e di di momento no di di onisiaco eh l'opera è stata copiata in tanti in tante versioni pensate che ce ne sono anche altre in Francia non originali decorano anche i giardini di Versailles perché era proprio un prototipo un prototipo probabilmente poi copiato soprattutto per i giardini nel sette ottocento e ehm le le opere che abbiamo visto fino adesso purtroppo sono tra le più importanti della collezione archeologica partite eh per la Francia ci fu poi tutta una diatriba ehm legata a queste opere in particolar modo queste tre che erano le più famose eh lo stesso Canova si arrabbiò tantissimo con eh i borghese per aver in qualche modo non essere stati così eh fermi no nel voler far partire queste opere che erano logicamente dei capolavori e che non sono più tornate in Italia ma eh purtroppo eh logicamente le dinamiche poi del tempo i rapporti con Napoleone non li possiamo non li possiamo conoscere lasciandoci alle spalle tutta questa storia così vedete complicata così anche affascinante ora andiamo a conoscere eh le opere che 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 ancora sono alla galleria borghese ehm tranne questa perché in realtà io ve l'ho messa anche se non è più lì perché adesso parleremo di Raffaello no vedremo le opere di Raffaello che sono alla borghese c'era anche questo dipinto eh che è avvolto un po' nel mistero nella sua storia il ritratto famosissimo di Raffaello di Giulio II di Papa Giulio II della Rovere guardate il non solo il realismo ma l'introspezione psicologica di questo Papa un Papa che non è come sempre dipinto in maniera no frontale pomposa celebrativa è un Papa anziano eh pensieroso eh pieno di angosce perché eravamo anche in un periodo molto difficile dal punto di vista politico guardate come lo rappresenta come un uomo fragile nonostante i suoi attributi i gioielli la questa bellissimo trono con addirittura no le pigne d'oro che era lo stemma della famiglia della Rovere il contrasto cromatico meraviglioso tra il rosso e il verde insomma un'opera eccezionale eh Raffaello eh è presente alla borghese con molti dipinti questo purtroppo però è stato ve l'ho messo proprio per questo motivo il primo dipinto a partire dalla galleria borghese ma non per andare eh nella nelle nelle collezioni diciamo napoleoniche ma era stato eh poi era entrato nel mercato antiquario era stato poi era passato in diverse collezioni e eh si trova oggi alla National Gallery entrato poi nella nella collezione appunto nel museo londinese perché un mistero perché quest'opera alla fine è stata in qualche modo identificata e attribuita a Raffaello eh grazie ad un numero di inventario che eh grazie al quale è stato possibile in qualche modo recuperare appunto le informazioni circa l'opera che doveva essere alla galleria borghese insieme ad un altro dipinto di Raffaello che adesso vi mostro e che ancora si trova ancora si trova eh lì e questo 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 dipinto è affascinante logicamente per la sua storia un po' rocambolesca perché è stato il primo a partire a lasciare la collezione e poi fino a poco tempo fa in realtà non si sapeva eh la certezza dell'attribuzione perché ce n'è un altro di dipinto uguale agli uffizi e si credeva che quello di Raffaello quello originale fosse proprio quello degli uffizi quindi ecco grazie a questo numero di inventario poi siamo riusciti a scoprire no eh la vera identità dell'opera di Raffaello eccolo l'altro dipinto eh partito dalla borghese e sempre firmato da Raffaello e sempre con lo stesso numero di inventario pensate numero centodiciotto queste due opere la ritratto del papa e la madonna del velo erano state fatte da Raffaello per ehm la la chiesa di Santa Maria del Popolo in piazza del popolo erano state richieste da un cardinale e poi erano entrate logicamente nella galleria borghese e di anche di quest'opera si conoscono tante versioni e non si sapeva quale fosse quella originale di Raffaello e grazie a questa scoperta del numero dell'inventario si è risaliti appunto all'attribuzione questo è il Raffaello più classico lo conosciamo no il nostro artista con queste madonne bellissime con questa sobrietà con questa dolcezza e è la chiamata la madonna del velo appunto ma eccoci di fronte al Raffaello eh che ancora possiamo vedere alla borghese perché come vi dicevo non tutte le opere di Raffaello si sono conservate lì hanno scelto diciamo altre strade ma tra le tante opere di Raffaello famose sicuramente c'è questa a me piace particolarmente questo ritratto è di un grande mistero anche la sua storia tra l'altro eh è una dama vedete è chiamata la dama con gli ocorno eh però in realtà è una donna molto misteriosa c'è una sorta di enigma dietro a questa figura intanto inquadriamo la siamo vedete di fronte ad un ritratto molto tipico di Raffaello un po' richiama anche Leonardo con questo loggiato sullo sfondo ma in realtà in questa in quest'opera eh c'è molto mistero perché noi non sappiamo assolutamente eh chi eh fosse questa fanciulla chi fosse questa donna eh sono state fatte varie ipotesi è una donna molto bella con questi occhi profondi blu eh questi capelli biondi ben abbigliata con l'abito tipico delle nobili donne del tempo questo bel diadema perché vi dicevo c'è un mistero perché in realtà eh qualcuno ha pensato che potesse essere eh mandalena strozzi quindi eh ricorda nelle fattezze anche se un po' più magrolina il ritratto che vi ho messo sulla destra che è appunto la famosa mandalena strozzi conservata agli uffizi eh l'abbigliamento è molto simile perché siamo sempre no nel nel primo cinquecento ma potrebbe essere anche Caterina Gonzaga di Montevecchio che vi ho messo qui sulla sinistra che era considerata una delle donne più belle del tempo addirittura aveva superato la bellezza di Giulia Farnese la famosa amante di Papa Alessandro Borgia e era sposata ad un umbro ad un eugubino e e quindi ecco l'identità è misteriosa perché in realtà non si hanno grandi informazioni circa questa questa fanciulla addirittura qualcuno per la presenza del liocorno dell'unicorno che era il simbolo anche legato alla purezza ovviamente e ai Farnese ha pensato che potesse essere la famosissima Giulia Farnese no? Comunque fatto sta che di questa donna così misteriosa ancora c'è un po' un enigma l'unica indicazione che ci porta a pensare a Caterina Gonzaga è il fatto che l'immagine originale non era la dama con l'unicorno ma era una santa Caterina cioè forse originariamente era la dama con l'unicorno trasformata poi in santa Caterina. Vedete infatti nella radiografia si vede che non c'è l'unicorno c'è un abito molto più casto con questo mantello c'è la la palma del martirio quindi potrebbe essere che ovviamente Caterina da Montevecchio morto il marito sappiamo entrò in convento e quindi il suo ritratto così avvenente così no comunque particolare fu trasformato per il suo nome in santa Caterina quindi ecco questo è un po' il mistero di questa bellì di questo bellissimo ritratto che possiamo vedere nella sala del rinascimento dedicata ai capolavori del 500 alla Borghese. Un altro piccolo quadretto di Raffaello dei primi anni della sua produzione pensate che questo risale al 1503-1504 quindi praticamente il Raffaello Umbro quando lui era a Perugia quando stava facendo le opere di Perugia che abbiamo conosciuto è il Raffaello di questo quadretto che è molto misterioso non sappiamo bene anche questo cosa rappresenti sicuramente è legato al clima neoplatonico fiorentino che Raffaello frequentava in quegli anni sicuramente conosceva qualcuno pensa che sia Ercole Albivio o comunque una figura di un cavaliere che deve scegliere vedete tra la vita attiva e la vita contemplativa cioè tra la vita da cavaliere quindi comunque no dedicarsi alle armi allo studio o una vita più dedicata ai piaceri vedete che infatti c'è questa fanciulla con questa con questo fiore quindi ecco una immagine molto filosofica molto neoplatonica con le tre grazie piccoline sulla destra. Qui passo veloce perché ne abbiamo parlato a lungo ma l'ultima opera di Raffaello che si trova alla Borghese ma che è sicuramente la più celebre e la più amata da chi visita la Borghese è la deposizione Baglioni. Scipione se ne volle impadronire nel 1608 quindi pensate che l'opera rimase a Perugia un secolo cento anni Raffaello la finì nel 1508 era l'ultima opera perugina poi partì per Roma e Scipione in accordo con i frati la fece trafugare proprio in maniera di nascosto in maniera molto schietta eh si accordò con i frati la fece portare via di notte creando un grande tumulto di popolo ovviamente perché era l'opera più bella di Raffaello a Perugia eh non vi racconto la storia perché la conoscete comunque realizzata in occasione delle delle nozze di sangue quindi dopo la morte del famosissimo eccolo qui Grifonetto Baglioni quindi una commissione legata alla madre Atalanta che volle celebrare questa morte straziante del figlio eh Raffaello si rifà nei suoi sedici disegni preparatori per quest'opera meravigliosa si rifà sicuramente all'antico alle famosi sarcofagi con la morte di Meleagro la morte di Ettore ma si rifà anche alla pietà di Michelangelo che probabilmente aveva visto nei suoi viaggi romani eh un'opera meravigliosa per la gestazione per i disegni per per tutto quello che Raffaello ci ha messo di su un artista giovanissimo ventenne praticamente ma di un calibro eccezionale c'è anche un riferimento a Michelangelo siamo negli anni in cui logicamente ecco pian pianino Michelangelo e Raffaello si guardavano in qualche in qualche modo quindi la la galleria borghese custodisce questo capolavoro che per noi perugini è qualcosa di eh un tassello della nostra storia fondamentale ed eccoci invece ad un altro grandissimo pittore che è Caravaggio Caravaggio lo scopriremo la prossimo martedì in un appuntamento proprio dedicato alle sue opere romane e che sarà molto affascinante scopriremo tanti misteri tante curiosità di questo personaggio molto molto sui generis e alla borghese ci sono molte opere di Caravaggio tra queste c'è la famosa Madonna dei Palafrenieri che creò molto scandalo nella Roma del tempo e Scipione borghese non colse non perse l'occasione per appropriarsene subito dato che l'opera era stata rifiutata ora la Madonna dei Palafrenieri fu commissionata a Caravaggio dalla confraternita dei Palafrenieri per la Basilica di San Pietro a Roma e un'opera che come vedete bene è particolarmente eh osè e anche fuori luogo per una chiesa come poteva essere San Pietro al tempo intanto per la luminosità per questo contrasto cromatico molto forte per questa luce che non è una luce divina ma è una luce eh reale una luce che viene da fuori per questo bambino Gesù completamente nudo che sembra un bambino che no reale che possiamo vedere in qualsiasi momento e per la donna che è diciamo stata utilizzata come modella per Maria una Maria così discinta così popolare e così conosciuta al tempo che insomma era davvero scandalosa come come immagine perché perché questa donna non è una donna qualsiasi questa Maria della Madonna dei Palafrenieri è una famosa eh cortigiana la cosiddetta Maddalena la cosiddetta Lena il suo vero nome era Maddalena Antonietti e era una delle prostitute una delle cortigiane più celebri più famose del tempo era stata amante di Caravaggio e lui l'aveva utilizzata in più occasioni per le fattezze di Maria come anche nella Madonna dei Pellegrini che è sempre a Roma è l'opera che vi ho vi ho messo qui e eh tra l'altro il concilio di Trento aveva proprio ehm specificato che non bisognava utilizzare delle figure mh belle in maniera sfacciata e soprattutto conosciute perché era logicamente qualcosa che andava contro qualsiasi regola qualsiasi canone era stata tra l'altro l'amante di cardinali di insomma di personaggi importanti nella Roma del tempo e il suo volto si conosceva lo conoscevano un po' tutti quindi Caravaggio eh osò a utilizzarla come modella e quindi l'opera venne rifiutata ma Scipione non interessava appena ci fu il rifiuto lui decide di accaparrarsene e quindi la portò nella sua collezione. Di Caravaggio alla Borghese abbiamo molto altro e per esempio tra le varie opere c'è proprio tutta una Sara dedicata a lui ci sono questi due dipinti bellissimi molto diversi no? Il Bacchino malato e la Davide con la testa di Golia che è un'altra opera che diciamo anche autobiografica di Caravaggio di grande fascino. Ma ora il nostro viaggio diciamo si concentra prima di 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 terminarlo eh si concentra su quelle che sono le meraviglie di Bernini alla Borghese perché? Perché effettivamente Bernini fu l'artista che per Scipione eh no? Incarnava meglio questo gusto anche per un'arte nuova eh questa voglia di in qualche modo anche emulare l'antico ma innovare allo stesso tempo e quindi fu uno degli artisti noi lo conosciamo l'abbiamo visto no? Durante il nostro viaggio delle fontane perché era il famoso architetto di Urbano Ottavo Barberini ma prima diciamo di diventare eh architetto scultore di fontane comunque prima di trasformare la Roma barocca con le sue creazioni lui ha lavorato molto per Scipione Borghese. Scipione Borghese gli ha commissionato diversi capolavori no? Poi diventati capolavori lui era un veramente un bambino prodigio qui lo vediamo in tre autoritratti eh sappiamo che era figlio d'arte perché il padre veniva da Firenze era anche lui uno scultore un artista molto famoso un intagliatore di marmo di grande precisione lui cresce proprio a contatto con l'arte e pensate che alla Borghese c'è la sua una delle sue opere eh diciamo più eh giovanili siamo stiamo parlando di un artista di sedici anni eh che probabilmente realizza questo piccolo gruppo con giove bambino ed un fauno allattati dalla capra amaltea quindi un tema di tradizione ellenistica eh sicuramente allegorico perché doveva ricordare un po' questa questo ritorno all'età dell'oro questa fase dei Borghese che richiamava ovviamente l'antichità e è un'opera bruttina eh parliamoci chiaro nel senso rispetto a quello che vedremo dopo questo questa piccola scultura eh non ha nulla di speciale ma se pensiamo che Bernini aveva sedici anni e se pensiamo che quest'opera fu invecchiata vedete che il marmo è sporco in realtà è una tecnica di invecchiamento che Bernini ha utilizzato proprio per dare questo effetto del tempo perché voleva fare in modo che quest'opera fosse scambiata per una scultura antica e quindi veramente molto curiosa no questa sperimentazione Bernini sperimentava molto le tecniche amava molto eh no creare effetti nuovi era un po' il gusto del barocco l'abbiamo visto anche per le fontane no quindi alla Borghese eh siamo partiti con questo piccolo gruppetto di Bernini sedicenne ma in realtà alla Borghese sono conservati più grandi e più più bei capolavori eh in marmo di Bernini e il il primo diciamo importante gruppo commissionato da Scipione Borghese è questo aveva ventidue anni Bernini eh è il famoso gruppo di Enea Anchisei Ascanio che fuggono da Troia quindi un tema ancora diciamo comunque legato all'antichità quindi la fonte letteraria è eh logicamente l'Eneide di Virgilio e e presenta sicuramente era giovane eh no Bernini ancora delle incertezze delle gracilità soprattutto a livello strutturale formale problema di staticità era una scultura molto difficile da realizzare no e con tre figure una sopra l'altra ehm c'era una sorta quasi di eh riferimento a anche alla alla famiglia Borghese in particolar modo a Scipione perché Scipio vuol dire bastone quindi era un omaggio alle tre età dell'uomo perché ovviamente abbiamo tre eh uomini tre diciamo no fasi della vita del dell'uomo e e poi era un omaggio anche al cardinal nepote che sostiene il suo zio anziano il suo zio papa Panziano ehm logicamente Bernini in quest'opera come vedete bene ha ancora molte incertezze nella 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 staticità nell'equilibrio perché è giovane ancora in esperto ma soprattutto perché questa è un'opera di grandissima difficoltà eh il dinamismo solito la leggerezza solita di Bernini qui manca ancora eh lui si rifà probabilmente ad un famoso dipinto di Pollaiolo in cui si stava sperimentando anche questa idea no di un corpo eh aggrovigliato ad un altro di una figura sopra all'altra ma non era assolutamente facile ehm fa un po' no effetto vedere comunque questo naturalismo perché eh vedete come i volti sono diversi no l'idea appunto delle tre età dell'uomo eh il marmo nonostante sia un materiale molto duro guardate come viene trattato si vedono le 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 vene del braccio no di Anchise si vede il volto comunque anziano preoccupato corrucciato eh durante questa fuga si vede addirittura la no la pelle decadente ehm mentre insomma la figura di Enea sicuramente no ad un altro un altro impatto quindi un'opera bellissima ma ancora particolarmente immatura rispetto a quello che stiamo per vedere. Abbiamo un tuffo in alcuni dettagli bellissimi di Bernini eh dei suoi due più grandi capolavori hm il ratto di Proserpina e Apollo e Daphne che sono sicuramente due opere che eh quando si si vedono dal vivo lasciano senza fiato. Ora eh sicuramente l'idea di eh rappresentare dei miti tratti dalle metamorfosi di Ovidio era fondamentale come stile come diciamo abitudine nel seicento da parte degli degli scultori perché la metamorfosi eh permetteva e quindi il racconto di queste trasformazioni in qualche modo e di questi miti anche antichi permetteva agli scultori di sperimentare anche i materiali le posizioni. Qui c'è il famoso racconto di eh Proserpina che viene rapita questa fanciulla figlia di di Cerere appunto viene rapita mentre stava raccogliendo dei fiori vicino ad un lago vicino ad Enna in Sicilia. Viene rapita dal famoso Plutone eh dio degli inferi che se ne invaghisce che la vuole portare come sposa eh con lui. Ovviamente il momento che Bernini eh racconta è l'apice dell'azione. Questo era il suo stile. È il momento proprio nel quale Plutone eh dal suo carro con il famoso cane a tre teste Cerbero appunto che controlla anche no intorno a sé rapisce eh eh Proserpina e la la intrappola quasi in questo abbraccio. Eh c'è qualcosa di straordinario in questo in questo gruppo scultorio perché sembra quasi una rappresentazione di teatro sembra quasi veramente vedere la scena in atto. Sicuramente è un po' artificiosa eh come scultura nel senso che c'è un'artificiosità della posizione c'è molto virtuosismo nel senso che proprio lui amava Bernini mostrare la sua capacità di trasformare la il materiale la il marmo renderlo liscio renderlo eh soffice renderlo scabroso quindi è veramente un'opera eccezionale. Eh andrebbe vista frontalmente perché Bernini per quanto le sue opere si possono apprezzare a trecentosessanta gradi perché si possono vedere ovunque sono splendide sono tutte rifinite i dettagli sono eccezionali però lui diceva che l'opera andava vista da un punto di vista preciso perché essendo un'opera che rappresenta un momento dinamico eh transitorio eh non ci potevano essere tanti punti di vista per apprezzarla ma bisognava guardarla da un punto di vista preciso in questo caso frontale ora andando dentro all'opera guardando i dettagli riusciamo anche a notare come Bernini eh riesca proprio a dare realismo umanità a queste figure che sono comunque figure di divinità no in qualche modo eh riesce a dare una naturalezza un realismo alla materia che è fuori dall'ordinario guardate le mani di Plutone che affondano nella carne no nel corpo di Proserpina sembra veramente di vedere qualcosa di reale cioè la morbidezza della carne noi la percepiamo nonostante siamo di fronte ad un'opera in marmo guardate il gesto di Proserpina lei ovviamente cerca di scansare no questo volto così eh no comunque accattivante in preda alla follia amorosa di Plutone le sue braccia sono protese in alto lei logicamente è un misto tra come vedete da questa bellissima immagine tra paura per quello che le capiterà quindi vivere no al buio e nell'oscurità eh ha perso i suoi fiori la sua cintura di fiori che sono caduti mentre Plutone la rapiva non sa più se rivedrà la madre insomma un dramma in quel momento quindi un momento di smarrimento di paura addirittura le lacrime vedete lui riesce a rappresentare mentre la il volto di Plutone come vedete di tutt'altro aspetto quindi eh le emozioni vere ce le scolpisce sul marmo e la barba guardate è lavorata con il trapano con un uso massiccio del trapano guardate quale precisione no virtuosismo in questo lavoro ecco ancora un altro dettaglio splendido ed ora prima di vedere l'Apollo e Daphne che è sicuramente un'altra delle opere no cardine della nostra eh della nostra passeggiata virtuale eh c'è il David il famoso eroe biblico che eh viene eh qui eh realizzato da Bernini in maniera completamente diversa rispetto a quello che era il canone tipico del rinascimento che aveva rappresentato il David immobile comunque in meditazione no cosciente della propria virtù e logicamente in un momento di attesa o prima o dopo l'azione invece Bernini coglie qui vediamo Donatello e Michelangelo coglie proprio l'attimo lo sforzo che eh Davide sta facendo per scagliare il sasso con la fionda quindi è un'opera dinamica un'opera eh eccezionalmente originale probabilmente si rifà come avete visto al gladiatore romano si rifà le opere della diciamo della Grecia antica e e no quell'eroismo tipico che veniva scolpito anche dagli scultori greci ma eh c'è molto di più perché guardate che splendido volto no caratterizzato da questa questo sforzo no Bernini eh si racconta che abbia ritratto nel David il suo volto e che eh fu il futuro suo committente Maffeo Barberini che diventerà papa no con il nome di Urbano VIII a tenergli lo specchio eh come in una sorta di autoritratto e lo sforzo che Davide sta facendo per lanciare la fionda quindi per concentrare la sua energia era lo sforzo di Bernini nel lavorare il marmo quindi eh ecco c'è questa sorta di quasi no autobiografia nel nel David ecco no il momento guardate anche la corda come è lavorata qualcosa di incredibile no? Ehm l'opera fu anche descritta da uno dei biografi di Bernini il Baldinucci proprio sottolineando questa eh particolarità anche di questo volto eh no così concentrato con questi occhi fissi con con rucciato proprio per rappresentare il massimo dello sforzo no? L'azione nel massimo della potenza ecco li presenti questi due queste due statue i due David quello di Michelangelo e quello di di Bernini siamo di fronte a due artisti a due mondi a due culture completamente diverse no? Nel rinascimento si prediligeva la comunque la perfezione l'armonia le linee ferme la staticità la monumentalità nel rinascimento nel barocco eh si prediligeva invece la la lo stupore la meraviglia l'artificiosità il dinamismo no? Il naturalismo l'abbiamo lo abbiamo visto chiudiamo eh Bernini con Bernini diciamo con Bernini chiudiamo con l'Apollo e Daphne perché è uno dei suoi capolavori eh viene realizzato eh eh diciamo in una fase eh comunque importante perché Bernini stava lavorando proprio per Scipione Borghese e aveva fatto tutte queste questi gruppi così importanti ehm si rifà le metamorfosi di Ovidio anche qui abbiamo questa trasformazione no? Di Daphne in alloro descritta dalle metamorfosi di Ovidio e eh qui c'è un po' inizialmente un po' una riflessione sull'antico più che in altre opere perché lui si rifà l'Apollo del Belvedere che vedete qui che è una statua di marmo eh che si trova in Musei Vaticani quindi c'è una certa leggerezza rispetto anche al ratto di Proserpina c'è un un'idea un po' più all'antica rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso sembrano quasi danzare no? Queste figure sembrano quasi volare no? E spiccare il volo quindi è è marmo è una materia dura una materia difficile da maneggiare eppure è tutto particolarmente leggero si rifà anche ad un dipinto di Guido Reni che si trova al Museo di Capodimonte e eh questa grazia questa eleganza sicuramente eh viene rappresentata da Bernini sempre però con la stessa dinamica e cioè cogliere eh l'attimo cogliere l'azione nel momento estremo della sua realizzazione vedete che c'è Apollo che secondo la 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 storia appunto di Ovidio che noi conosciamo era stato colpito da una freccia di eh Cupido che eh ovviamente faceva innamorare questa freccia portava ad innamorarsi eh no? Eh di chi ovviamente veniva poi osservato invece a Daphne viene lanciata una freccia che eh fa rifuggire l'amore e quindi questi due personaggi questi due diciamo fanciulli sono destinati ad un a non unirsi mai e quindi c'è un momento proprio vedete di 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 fuga di questa bellissima ninfa Daphne che cerca di sfuggire dal suo pretendente da Apollo che in preda anche lui no? Dopo questa sorta di quasi eh no magia possiamo dire eh questa sorte no imposta da Cupido eh è accecato dall'amore quindi la la rincorre eh e lei chiede aiuto al padre Peneo per evitare ovviamente no di di essere rincorsa da Apollo di eh di trasformarla in qualcos'altro e il padre decide di trasformarla in alloro in una pianta di alloro infatti poi l'alloro sapete che è diciamo la pianta sacra ad Apollo ehm l'opera ebbe una una risonanza straordinaria durante eh la diciamo il periodo di Bernini ma anche dopo fu una delle opere più dipinte copiate celebrate ehm proprio per questa questo pittoricismo sembra una pittura che si muove sembra una pittura fatta di di marmo guardate la leggerezza dei capelli mosti dal vento ehm i volti anche qui sono volti che ci mostrano le emozioni di questi due fanciulli quindi lo spavento la paura di lei che si sta trasformando quindi Daphne capisce che è è è un momento di trasformazione la sua vita è destinata a cambiare per sempre le sue mani vedete dalle sue dita stanno spuntando delle foglie ma vi rendete conto che il marmo per essere lavorato con questo effetto di leggerezza sottile trasparente quasi no eh ecco c'è una tecnica dietro inimmaginabile insomma di grande grande capacità ma anche gli stessi capelli guardate eh infatti qualcuno ha parlato proprio di pittoricismo no come se fossero quasi dipinte queste figure no per la loro leggerezza ecco Bernini riesce proprio a catturare no nell'istante diciamo della trasformazione le emozioni di questi due di questi due fanciulli quindi la paura di Daphne e invece ecco questo sguardo un po' perso no nel accecato dall'amore di Apollo pensate che la Daphne appunto in modo particolare di Bernini fu descritta fin da subito dallo stesso Baldinucci come una delle un miracolo dell'arte come qualcosa di quasi uscito dalla da una mano divina in effetti ecco eh l'Apollo e Daphne eh del Bernini è qualcosa di di unico al mondo eh molti hanno ovviamente no domandato mh si sono chiesti come mai un tema così eh in qualche modo anche fuori luogo per una villa di un cardinale no comunque per un personaggio insomma di un certo tipo eh per quale motivo fu scelto un tema così e perché non creò polemiche perché in effetti Scipione eh decise di mettere un distico ovviamente un'iscrizione sotto che giustificasse la scelta di questo tema pagano era una sorta di monito a non in qualche modo seguire no le l'amore eh no la bellezza fugace le gioie insomma amorose perché poi tutto si dissolve no e quindi era logicamente un modo per poter avere senza problemi e senza critiche un'opera di questo calibro che faceva anche insomma all'epoca abbastanza scandalo no in quella che era una una dimora di un cardinale allora lasciamo l'Apollo e Daphne ci sarebbero a dire tanto ma ovviamente speriamo di andarci dal vero e a vederla qui vedete un dipinto del Settecento che ci mostra proprio questa mania di copiare continuamente le opere di di Bernini in modo particolare eh l'Apollo e Daphne che fu copiata tantissimo e prima di chiudere con la Paolina di Canova che è la nostra ultima opera vi mostro eh quello che eh ancora c'è alla alla Borghese di Bernini eh abbiamo iniziato con un'opera della sua adolescenza della sua appunto giovinezza e chiudiamo con un'opera della sua ma tarda maturità è un Bernini vedete molto diverso eh perché Bernini poi ovviamente dopo tutti a questo lavoro straordinario dei gruppi scultore inizia a lavorare per Papa Urbano VIII lavora tanto no per le fontane i palazzi farà tanti progetti ma ci sarà un momento un po' critico per Bernini una sorta di diciamo un momento di crisi perché lui progetterà se vi ricordate eh ne abbiamo parlato in qualche occasione i due campanili ai lati del famosissimo Pantheon aveva fatto questo progetto quando la Pantheon diventa chiesa un progetto che non venne assolutamente apprezzato i campanili vennero realizzati ma poi vennero abbattuti quindi Bernini un po' per quello un po' perché era salito al soglio pontificio un altro Papa Innocenzo X quello del della fontana dei quattro fiumi insomma Bernini non era più all'apice della sua carriera quindi fa questa statua che era nella sua nel suo studio quindi lui ce l'aveva nel suo studio venne poi venne poi eh acquistata dalla galleria borghese insomma dalla collezione borghese non la terminò quindi è un'opera incompiuta e è molto simbolica la verità rivelata dal tempo quindi l'idea che questa verità cioè questa donna che rappresenta la verità eh verrà svelata con il tempo e cioè una sorta per lui di riscatto personale no e mh vedete che non è finita perché non c'è la figura del tempo però l'opera comunque ci mostra ancora una volta questo questo naturalismo di Bernini questa semplicità anche nel rappresentare un corpo vedete non perfetto in questo caso e invece adesso abbiamo un altro grande protagonista che chiude un po' la nostra il nostro viaggio alla borghese perché questo è un altro must possiamo dire della della borghese e che è la famosissima paolina buona parte borghese eh l'opera è meravigliosa dal vivo come tutte le opere di Canova eh è un'opera eh logicamente di tutt'altro stile siamo nella fase neoclassica no Canova è il massimo esponente per la scultura possiamo dire di questo gusto neoclassico e siamo nell'ottocento siamo proprio in occasione delle nozze eh di Marco Antonio Borghese con Paolina quindi lui decide chiede a Canova di realizzare una statua una scultura della moglie nelle vesti di venere di venere vincitrice quindi ancora una volta un richiamo all'antichità no richiamo comunque a un mito eh logicamente la nostra bellissima Paolina eh eh in questa posizione così discinta con questa sorta di no di di velo che copre quindi permette no di vedere non vedere crea ancora di più sensualità in questa figura lei è sdraiata vedete su una si chiama agrippina è questa sorta di poltrona come una sorta quasi di treclinio ha ovviamente il pomo in mano simbolo della sua vittoria ha questa acconciatura tipica del dell'ottocento che richiama anche no non a caso le acconciature antiche no perché nel neoclassico ci si rifaceva all'antico ma ecco Canova eh la realizza eh logicamente nel suo studio quindi eh Paolina sappiamo posò per Canova e ci furono molte critiche potete immaginare insomma Paolina era la sorella di Napoleone al tempo ancora Napoleone era all'apice della sua no della sua eh fase quindi eh ci furono molte critiche e quando gli si domandava come mai no ti hai vestito sei diciamo messa in posa così tutta insomma nuda non hai sentito freddo lui si diceva lei rispondeva ovviamente in senso ironico eh Canova aveva i riscaldamenti aveva il cammino acceso quindi l'ambiente era caldo e non sentivo freddo quindi lei era molto ironica anche su questo aspetto un'opera bellissima ma soprattutto guardate tutt'altro calibro rispetto a Bernini nel senso due grandi artisti ma con uno stile con una tecnologia con una eh con una tecnica appunto e con una con una lavorazione del marmo completamente diversa Bernini l'avete visto puntava molto sull'azione sul dinamismo Canova invece cerca proprio di puntare sull'effetto di massima perfezione di massima armonia e soprattutto usava qui non si vede molto bene perché logicamente l'opera è riprodotta usava una patina particolare da dare alla pelle diciamo al marmo per rendere l'effetto appunto della pelle una sorta di cera color rosa che creava questo effetto eh quasi di incarnato quindi l'opera veniva rifinita fino all'ultimo dettaglio veniva sbozzata poi veniva ovviamente lavorata e finita con questo effetto che creava quasi una brillantezza guardate anche l'effetto del lenzuolo cioè sembra davvero che il peso del corpo di no di Paolina lasci il segno su questo materasso su questo lenzuolo i cuscini l'opera era eh bisognava guardarla eh secondo le indicazioni di Canova a lume di candela perché gli effetti del marmo eh erano migliori si creavano degli effetti di riflesso sembrava quasi animarsi la statua lo possiamo immaginare e andava vista dai da vari punti di vista appunto da varie da varie inquadrature infatti questo letto all'interno ha ancora oggi un marchigegno una sorta di motore eh che eh permetteva di azionare la statua quindi il letto girava su se stesso e i visitatori eh guardavano questa Paolina e nelle vesti di Venere era una sorta quasi di musa no idealizzata logicamente quando Paolina si invecchiò e poi anche le sorti di Napoleone cambiarono eh l'opera fu tolta fu nascosta fu coperta da teli neri lei proprio richiese al marito di non mostrarla più perché era comunque ormai fuori luogo insomma no l'esposizione di una statua di questo livello e Canova ha logicamente fatto molto altro e magari avremo l'occasione di scoprirlo in qualche altro incontro virtuale. Ecco chiudiamo con una immagine eh che ci mostra uno dei tanti prospetti della villa con eh le fontane con le statue all'antica eh quindi ecco una villa che era pensate proprio su richiesta di Scipione pensata con ampi finestroni come si vede da questa immagine per poter dare alle sale la luce giusta per apprezzare le opere d'arte. Quindi Scipione per quanto fosse stato un artista un mecenate spregiudicato che si era appropriato veramente anche rubando le opere di altri contemporanei aveva però già questa idea del museo no dell'esposizione delle opere d'arte in un certo modo per poterle fruire per poterle apprezzare al meglio. Quindi ecco questa è un po' la nostra la nostra carrellata. Adesso io tolgo la condivisione.